Io sono sicuro, perché vedo come stanno lavorando, anche se in questo momento la testa è solamente sul campo, che l'Inter continuerà quello che ha iniziato quest'anno e che per sei mesi ci ha dato anche dei risultati e che poi per molti motivi non è riuscito ad andare in porto. Ma ne sono certo perché sento ogni giorno il Presidente e so che cosa lui ha in testa. Onestamente, con grande rammarico, credo che la differenza enorme di Introiti sia fra la Champions. e il resto degli obiettivi. Quindi sicuramente in questo, premesso che noi ci proveremo fino all'ultimo respiro, ma in questo credo che non mutino le ambizioni del nostro club e del nostro Presidente, di costruire un Inter importante.